Ciao a tutti, siete sul canale di Ami e Sofi. Oggi faremo un bellissimo origami a forma di farfalla. Per fare questo origami ci serviranno forbici e un pezzo di carta quadrato. Cominciamo, dai! Per prima cosa dobbiamo piegare così. Poi lo apriamo e lo pieghiamo per così. Poi lo riapriamo e lo pieghiamo così. E poi dobbiamo girarlo e piegarlo di nuovo allo stesso modo. Bene, bene i bordi. Lo riapriamo e vedete che è venuto una specie di fiocco di neve. Dobbiamo prendere queste qui, in mezzo questo, da tutte le due le parti e schiacciarle verso il giù così. Così, guardate. E poi si dovrebbe formare un triangolo in questo modo. Aspettate che lo faccio anche dall'altra parte. Bene, bene, bene. Ecco, vedete? Si forma tipo un fiore. C'è una farfalla però fatta così. Quindi, questo triangolo lo pieghiamo per così e tagliamo qui, così. Questo triangolo lo dovete aprire e piegare le alette così, formando una specie di cuore. Aspettate, così. Adesso questa parte di sopra la dovete portare da qui in giù. Aspettate, anche un po' più per così. E adesso vediamo il prossimo passaggio. Fatto questo, dovete piegare così qui e le ali così. Ed ecco, è venuta proprio fuori una bellissima farfallina. Dobbiamo sistemare un pochino e poi... Perfetta, ragazzi. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like, iscrivetevi al mio canale qui sotto e schiacciate la campanella per non perdere i prossimi video. Ciao!